Un tempo i treni andavano a vapore e ci voleva il carbone, oggi non più. E anche per un mezzo moderno come l'aereo non basta più il carburante, ma è necessario infornare quattrini per farlo volare. Per il Fellini, lo scalo riminese, c'è già stata una raccolta di 300.000 euro messi sul tavolo dal centro gross con l'obiettivo di salvaguardare la continuità dell'aeroporto. La cifra finale da raccogliere però è più alta, si parla di quasi un milione e mezzo di euro. Sono stati presi impegni anche dalle categorie del territorio per verificare con gli associati la disponibilità a trovare forme di finanziamento adeguate. Impegni questi che consentiranno al curatore fallimentare Renato Santini di chiedere in tempi rapidi al Tribunale la proroga al 31 ottobre 2014, in luogo dell'attuale data del 30 giugno, per quanto riguarda la scadenza dei termini per l'esercizio provvisorio della società di gestione aeroportuale. Questo consentirebbe al Fellini, si legge nella nota della Prefettura, di soddisfare le esigenze turistiche della stagione estiva e di tenere attivo lo scalo in attesa degli esiti a quel punto presumibilmente definitivi tanto del procedimento pendente davanti alla Corte d'Appello che del bando dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile per l'Affidamento della Nuova Gestione. Perfetto ha infine sottolineato come il territorio sappia far coesistere in maniera propositiva forme di partecipazione pubblico-privato in grado di rispondere anche a gravi e forti sollecitazioni come quella dell'operatività dell'aeroporto Fellini.